LG 43 pollici 4K Smart TV 379 euro Notebook HP con processore i3 da 15,6 pollici ad euro 349,99 Huawei P20 Pro, fotocamera da 40 megapixel, intelligenza artificiale, dual sim a 599 euro Asciugatrice Electrolux 8 kg di carico, tripa più, a sole 7,99 con un condizionato in amaggio del valore di 5,99 Sistema Home Theater Yamaha 5.1 a soli 299 euro Samsung S9 Plus, Infinity Display, lettore di impronta digitale, dual sim a 599 euro LG 55 pollici 4K Smart TV 499 euro Robo multifunzione della Kenwood, movimento planetario 3 fruste in dotazione, a soli 169,99 Samsung Galaxy Tab E da 9,6 pollici Wi-Fi ad euro 139,99 Samsung 50 pollici 4K Smart TV a soli 449 euro Samsung A7, tripla fotocamera, lettore di impronta digitale, dual sim a 299 euro